Ripartono gli incentivi statali? DR Automobile Group va oltre. Ti offre un incentivo di 1.500 euro per l'acquisto di un'auto nuova sia del marchio DR che di quello Evo se rottami qualsiasi usato senza alcun vincolo. Infatti, a differenza degli eco-incentivi statali che prevedono una rottamazione di un'auto di propria età con un'anzianità di almeno 10 anni, DR Automobile Group ti consente di rottamare qualsiasi usato, indipendentemente da chi ne sia il proprietario e a prescindere dall'età dell'auto da rottamare. La campagna Meno CO2, Più Sicurezza è un'iniziativa realmente protesa a svecchiare il parco automobilistico circolante italiano, uno dei più vetusti d'Europa. Meno inquinamento grazie alla tecnologia Thermo Hybrid Benzina GPL di DR Automobile che ti fa risparmiare l'ecotassa e ti permette di accedere anche alle zone ZTL. Maggiore sicurezza grazie agli elevati standard di protezione dei modelli DR e Devo. Le concessionarie ti aspettano per maggiori informazioni. Trova quella più vicino a te sui siti web DR e Devo.